Intanto ragazzi voglio scusarmi se qui alla mia sinistra ci sarà Dio per tutto il tempo, Dio ragazzi è sempre tra di noi, stavolta in tutti i sensi. Nel titolo ho messo notizie strabilianti, perché notizie strabilianti? Non so se voi vi ricordate quali sono state le prime serie storiche di questo canale, per esempio alcune serie del tipo top 10 canzoni migliori di un determinato artista. E l'ultimo episodio se non sbaglio che ho fatto è stato praticamente le 10 migliori ranzoni di Marrakesh, ma per quanto riguarda l'album persona, e è piaciuta. Perciò ho pensato, siccome io sto praticamente cercando di migliorare il mio canale portando nuovi contenuti, perlomeno che possano appunto rivoluzionare i canali in questo 2021 e si spera andando avanti nel 2022 o nel 2023, ma riportando allo stesso tempo alcune serie vecchie che hanno fatto la storia di questo canale e che dopo un po' ho deciso di lasciare un po' in disparte per concentrarmi su altri contenuti. E oltretutto ci sarà anche un ritorno in particolare di una serie che non la definirei proprio vere e proprie serie, dato che in realtà c'è stato soltanto un episodio, e tra l'altro ha superato le 400 visual in pochissimo tempo, quindi capisco che effettivamente è una tipologia di serie che vi piace. Ovviamente quel video là è stato fatto a inizio 2020, qui ragazzi, ok, siamo nel 2021, però il metodo in cui io praticamente conto tutte quante le syllabe per secondo di ogni rapper durante un determinato extra bit sarà lo stesso, dato che io sono ancora dell'idea che per calcolare quante syllabe per secondo dice, bisogna calcolare il numero di syllabe dette in tutto quanto l'extra bit, è diviso quanto dura l'extra bit. Torneranno ovviamente le reaction, e da un bel po' di tempo che non porto una reaction sul mio canale per quanto ricorda sì la musica, non per quanto ricorda altro. Le reaction ovviamente saranno dedicate soltanto ad alcuni album di artisti emergenti, dove io non avevo tantissimo un'idea particolare di ricordo quest'artista, ma che grazie a questa first listen, o a questa reaction come la volete chiamare, riuscirò a farmi una grandissima idea o negativa o positiva di ricordo l'artista. E saranno pochi i casi dove tutti quanti i progetti dove io farò una first listen avranno una recensione a parte. Per esempio sappiamo che è uscito da poco Madame di Madame appunto, è anche il primo disco di debutto del 3 che vedo che alcuni è piaciuto, alcuni non è piaciuto, io ancora non l'ho ascoltato, probabilmente appena io finirò di registrare questo video andrò subito a registrarne altri. Però ragazzi questo qua era soltanto un piccolo annuncio di mezzo ovviamente per non lasciare nulla su questo canale, ma anche perché ragazzi ho intenzione sia di portare il mio canale a un livello più alto di come lo era prima, ma allo stesso tempo di portarlo anche un po' come era alle origini, quindi cercare di fare un po' una via di mezzo tra tutte queste scelte. Aspettate, il video mica finisce qui. Infatti ho messo tra parentesi fit, punto interrogativo e punto interrogativo, ma chi saranno mai questi ospiti misteriosi? Lasciamo la parola a loro ovviamente per dare un'ulteriore informazione sempre sul futuro del canale, ma in particolare su un video. Lasciamo ovviamente la parola agli ospiti misteriosi. World of Cautious, World of Music, ormai davvero un grandissimo amico e collaboratore che spero voglia collaborare con me anche in futuro. Canale molto promettente, sapete che ormai collaboriamo da un po' di tempo, punto molto su di lui, ci vedrete spesso in collaborazione quando ci sarà la possibilità. Grazie. 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 Grazie.